Ciao bambini Scusi, ciao bambine, ma stavo vedendo, siamo qui nel verde Qui ci vuole... di cosa parliamo oggi? Forse parliamo del regista Eh, ma mica posso far apparire nel verde un regista Forse hai ragione, ci vuole qualcosa di un po' particolare Ci vuole una cosa particolare, per un regista ci vuole qualcosa da reggere Un traliccio Perché non provi magari con un bel palcoscenico? E com'era? Abra, cadabra, coccia, spalcoscenico Senti, questo non è adeguato Mi fa un po' schifo Potresti fare qualcosa di meglio? Aspetti Io un'idea ce l'ho Quale? Mi dica Il coccia Facciamo un strike a pose Dica Sì, vuole il coccia Abra, cadabra, coccia Oh, finalmente ci siamo Questo è adeguato Questo è veramente adeguato Peccato che adesso ci manca il regista Vuoi chiamare il regista? Dai, fai una telegine Guardi, abbiamo esaurito gli effetti speciali Non puoi più Puoi caricare la tua bacchetta Caricala un po' Aspetta Puoi una caramella Sei brava Sei brava Sei brava Sei forte Sei unica Abra, cadabra Regista Oh, e che bel pezzo di regista Ma è un bellissimo regista Ben arrivato Grazie Ti senti bene questo palcoscenico? È adeguato? Direi che è bellissimo Va bene Sono contenta Visto che avevo ragione io Sì, ma questa figura del regista È un'altra di quelle figure Che quando vediamo uno spettacolo Non prendiamo mai in considerazione È un po' come il maestro collaboratore È invisibile Lei cosa? Accidenti ci fa Cosa fa? Perché guadagna tutti questi soldi? Tanti Ecco, diciamo la verità I registi sono ricchi Ma non si sa cosa fanno Ma il regista fa vivere in qualche modo Ciò che i compositori e gli scrittori hanno scritto Lo immagina e lo rende visibile Vivo sul palcoscenico Cioè lei fa delle magie in pratica In qualche modo faccio una magia E quindi come funziona il lavoro del regista? Facciamo una prova? Facciamo una prova Può fare su di noi una prova? Ecco, noi siamo Lei è la regina Io sono il suo servitore E la storia? La storia della fata Carabinia Ce lo deve dire lei Noi siamo così E noi cambiamo a seconda di quello che ci dice il regista Comanda lei? Dipende di com'è fatta la storia Deciderei Il regista di solito non decide la storia Il regista di solito ha un testo Un testo letterario Shakespeare, Molière, Goldoni O nel caso di un'opera Oppure di un'opera L'opera di un compositore L'opera di un compositore Che abbiamo sentito in un'altra caramella Esattamente Lei riceve un testo sostanzialmente Un giorno si sveglia Suona la porta E il postino le consegna To! Uh! Che cos'è questo? Un testo! E lei dice Accidenti! È fuori contesto No! È contestualizzato perché lo porta a teatro Bene! Lei viene incaricato per esempio Da un direttore artistico Facciamo il direttore artistico Che incarica il regista Pronto? Sono il direttore artistico Lei è un regista? Buongiorno Certo sono un regista Ah! Se io le do un testo Lei riesce a metterlo in scena? Molto volentieri Che testo è? Allora venga da me nel mio teatro Glielo do Va bene? Molto volentieri Ah no no si fa così Si fa così Si spegne Eccoci qua Buongiorno regista Buongiorno direttore artistico Questo è il testo Io voglio che lei me lo metta In palcoscenico Cosa le serve? Beh allora Prima lo leggo Lo studio Cerco di capire Che storia si racconta Poi immagino un mondo Chiamo uno scenografo Chiamo un costumista Scenografo Costumista Queste altre sono parole difficili Che vedremo dopo Certo Con cui immagino Tutti insieme Immaginiamo Questo mondo Che creiamo sul palcoscenico E quindi facciamo vivere il testo Quindi le fasi Se ho capito bene Sono studio del testo Convocazione O coinvolgimento Di un team artistico Scenografo Team Nel senso Non che non è quello del telefono È team scritto Theam Perché quelli già E il team artistico Composto da scenografo Costumista di solito Che potrebbero anche essere La stessa figura La stessa persona Certo Oppure potrebbero essere diversi Detto questo Poi Diciamo il prodotto spettacolo Viene Portato all'attenzione La direzione artistica Che dice No Mi fa schifo Oppure Che bello Facciamolo Vero? Esatto Uno presenta Dei bozzetti Dei disegni Ricostruiti In piccolo Bozzetto Bozzetto Che non vuol dire Che uno prende una botta E c'è un bozzetto Qui È un disegno Per immaginare Com'è il palcoscenico Come si muovono I cantanti I colori Le luci Tutto quello che ci può essere Così il direttore artistico Dalla testa del regista Prima di vedere il palcoscenico Lo vede sul bozzetto Esatto E magari se si riesce Con lo scenografo Si costruisce un piccolo Palcoscenico Tridimensionale In miniatura Che in realtà Ricostruisce In miniatura Tridimensionale La scena Lo puoi far vedere Roberto Con la bacchetta magica? Facciamo vedere Come si chiama? Come si chiama? Una bacchetta Si chiama Maquette E allora Maquette Sara Questa qui Che stiamo vedendo adesso Come vedete Una maquette Dove non ci sono però Degli attori Piccoli Ci sono dei macchettini Ci sono dei pupazzetti Dei pupazzetti Le figurine Le figurine Esattamente E invece poi dopo Quando questo prodotto Viene ingrandito Sul palcoscenico Vengono costruite le scene Vengono fatti i costumi Della costumista Ma vedremo come E poi cominciano Le prove Che non vuol dire Ah lei sta accusando costui Porti le prove Non sono quelle prove No Che prove sono? Sono le prove di movimento Degli attori Di atteggiamento Degli attori Ma c'è una cosa in più Direi Perché? Perché in un testo teatrale Noi abbiamo una frase Prendiamo ad esempio La ci darem la mano La ci darem la mano Uno Puoi dirla in mille moli diversi Per esempio Brontolone La ci darem la mano Un ordine La ci darem la mano Puoi dirla dolcissimo La ci darem la mano Però Il compositore La ci darem la mano La ci darem la mano Il Don Giovanni Ma beh allora Il Don Giovanni di Mozart Che era un grande Town Bird e Fam Lo sappiamo Bene E a questo punto Diciamo che il compositore Ha già scritto Come dire Quello che si deve pensare Certo Perché ha scritto I tempi Delle azioni Sul palcoscenico Perché appunto Il tempo Il ritmo Della frase È fondamentale Che è anche movimento Dell'attore La domanda Sorge spontanea Ma se il compositore Ha già scritto tutto Che ci sta a fare Regista Scusi Facciamo Chiamiamo il compositore Tra l'altro Tarali È disoccupato adesso Non possiamo Ah perché Mozart Forse è morto Beh dipende Insomma Ci sono anche Tantissimi compositori Contemporali Con cui è bellissimo Lavorare Anzi è molto bello Confrontarsi È molto divertente Che il regista Parli col compositore E avere delle idee E discutere E dire come nasce E ovviamente Parlare con Mozart Richiede anche È un po' difficile Per fare una seduta spiritica Certo Però Mozart appartiene anche A tutta quella schiera Di compositori Che hanno scritto I cosiddetti classici Per cui Cosa vuol dire Confrontarsi con i classici Piuttosto che con un'opera Contemporanea Ma questo è difficile Però scusami Questa è una bellissima domanda Però Però Perché Bello Perché lei può andare Guardi Io mi fermo un attimo Con il regista Ma io magari Le seconde puntate Gli do la parrucca rosa Mi piacerebbe tanto Allora Lei Le chiama il direttore artistico Le dice Devo fare Il castello incantato Di Taralli Oppure Devo fare Il don Giovanni di Mozart Cosa cambia Nell'approccio Nel voler riproporre Questo testo Allora Beh Con un'opera contemporanea È molto importante Il lavoro Con il compositore E con il librettista E capire Cosa hanno loro in testa Confrontarsi E a mio avviso Questo che penso io Essere Come dire Molto rispettosi Di quello che hanno loro in testa Perché l'opera sta nascendo Dobbiamo in qualche modo Tradurre Quindi il regista Diciamo È un po' un tramite In questo senso Nella grande tradizione Mozart Verdi Puccini Abbiamo tantissimi modi Forse di raccontare La stessa frase La stessa opera Quindi intanto Bisogna sapere Cosa hanno fatto I registi Prima O gli altri registi Quindi c'è il problema Di avere un'informazione Di essere preparati Da questo punto di vista E poi c'è una lettura Che uno dà Che è in base All'analisi del testo All'analisi dell'opera All'analisi dei personaggi Che ovviamente Si confronta Con il passato Per riportare tutto All'esperienza di noi Che facciamo le scuole elementari Quando ci danno Il testo Il tema La mia maestra Ognuno avrà Un punto di vista Diverso rispetto A quella maestra Anche se la maestra Ahimè È sempre quella Cioè non cambia mai Quindi è la stessa cosa Per cui io prendo un testo E decido di raccontarlo Non tanto In un modo diverso Perché appunto Il compositore Ha già scritto Delle parole Che non si possono modificare Però io posso decidere Che Don Giovanni È giovane e bello Oppure vecchio È racchio È più vecchio racchio Potrebbe essere giovane e racchio Non è scusa la cosa Ma ogni volta quindi Il Don Giovanni Nel caso di Don Giovanni È un Don Giovanni Diverso da quello Di tutti gli altri Certo E il regista Gode Nel fatto che Nel momento in cui Vanno in scena gli altri Gli applausi Gli prendono gli altri E il regista Non si prende mai Neanche un Ma no Devo dire di no Devo dire che è molto bello Creare un mondo Una magia Sul palcoscenico E questa prenda vita È qualcosa di impagabile Perché lei si sente un po' È un po' un mago Un po' quella bacchetta magica Allora siccome il mago Fa le magie E lei fa delle piccole magie Io le do un pezzettino Della mia bacchetta E adesso lei Chiude questo argomento Con la sua formula magica Lei per esempio Ha una formula magica Da regista? No Una formula magica No Che fissa No Per cui Noi qui Ci fermiamo Su questa Su questa sospensione Perché non abbiamo Una bella domanda Ci pensiamo E nella prossima caramella Vi diremo Cosa ha pensato il regista Chiude però lei Con la sua magia Faccia un abracadabra Dove sono andati? Vabbè Sparisco anche io Hop